Il narcisista si identifica con ideali di mascolinità tossica, manifestando appunto atteggiamenti misogini, riduce le donne puramente ad oggetti, ma in realtà ha anche un'altra aggiunta, cioè l'aggiunta dell'omofobia. Ed è radicata, ma è omofobo perché in realtà è un uomo latente che non sa che in teoria, come in pratica, sarebbe un uomo sessuale. Quindi il narcisista percepisce come una minaccia chiunque si discosti dal suo ideale di mascolinità, come abbiamo detto, tossica. Non è in grado di accettare le diversità, perché in realtà non è in grado di accettare né se stesso né gli altri. Ma c'è un paradosso ancora più inquietante. Colui, cioè il narcisista, che si erge a maschio alfa, in realtà quindi nella vita è sterile, quindi incapace di generare la vita. Questo è il paradosso. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale di Amore Psiche con la Pink e seguitemi. Ciao ciao!